cazzo se sono incastrati o cioè sono incastrati dentro che basta basta severi fregati quattro cancelli e uffanti guarda uno due e tre aiaiaiai aiaiai ha ceduto un codo cazzo ha ceduto un bullone cazzo e ha ceduto quello lì ostia si è incastrato anche questo figaronna se non togliamo questo non viene via non si piega se non viene via quel sassolino no devi provare a girarla in su se viene in su ma al contrario deve uscire quel sassetto qua quindi così? o prova a alzarla a vedere ma cazzarola proprio qua è andato dai che un po' si muove oh come vuoi chiamare Tony eh Tony vieni a rigirarla Gampi guarda Gampi Gampi Giacomo no c'è un sasso qua Spanti c'è dentro un sassetto lì solo che qua è dura eh guarda che girarla perché così è peggio da sotto quello lì da sotto prova da sotto Vito che da qua non ce la faccio dai dai che è ben un pezzo è andato solo che adesso prova a sforzarla ancora un pelino che arriva su dai che arriva dai 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 eccolo lì non c'ha un 17 eh c'era un altro zaino può darsi eh il tirante il bullone questo il dado che lo teneva lì ma c'è uno in mezzo eh no quello in mezzo deve tenere meno male dobbiamo girarla girarla ma se lo testiamo di qua dobbiamo uscire a starla eh questo il bullone lì con straccia tutta la volta che per andare a streppare con la parete eh cosa facciamo io ho detto un'ora di arrivare su ma mi sto sbagliando ti sei sbagliato ti sei sbagliato salchiamo la strada vai chi c'è giù? vai in mano eh tienila dai dai che va 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 buono 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 si lo riportalo a casa perchè non può servire non va giù eh tienila qua dai ah non va no lo dite nero poi appoggia no andar giù non va giù no il problema è che però se non glielo rimettiamo dentro anche questo se lo facciamo rimettere dentro eh eh bisogna portarne giù Tony bisogna portarne giù e spararglielo dentro dove c'è il buco? chi è che prassi da blusso? io no deve scendere ancora no ma magari è venuta via eh eh magari è venuta via proprio ah è lì il buco qua è qua ho il dito guarda dov'è esatto guarda c'è un sasso eh c'era ancora il vito ma non sta lì eh no bisognerebbe eh smulacchi da di chi fanno la dentro scesa capito toh picchia ma è dentro tutto ah è già dentro fino in fondo eh allora non tiene un cazzo no vabbè adesso tiene per andare su bisogna usare uno di questi lungo sparaglielo dentro ancora farlo fare il buco più lungo bisogna portare dentro il trapano non viene male il tuo amico visto che non vieni più a meno a sistemare la scaletta ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho allora fai una roba tira via questo no portalo via che devo prendere la misura eh portalo via questi sono quelli che si aprono dentro perché ci vuole quello con questo qua più lungo ancora portalo via tu devi metterlo dentro per evitare ma il buco sarà abbastanza no no glielo faccio col trapano portiamo giù il trapano ah picca guarda che per piegarla eh ma cazzo sai cosa è riuscito poi possiamo farlo possiamo farlo di qua un buco nuovo ma di là c'è anche il buco no no c'è il buco nella scala eh si basta c'è nella scala va bene blocchiamo tutti e tre tutte e due a fallo si si porta via quel lì che lo facciamo e se poi riusciamo in cinque e se poi riusciamo in cinque a buttare giù quel sasso lì qua sotto facciamo l'invito e saltiamo fuori e basta il mio problema è lì l'invito la larghezza no sono questi che bisogna buttarli giù lì sotto no qua ci passi no se lo mettiamo contro sotto lo porta via lo porta via no 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 la buttare alla signorante ferma qui non si lascia non si può dire è impossibile ma che ti prendo ti prendo no ma è sparata tutta me in faccia più che altro cominci a catare quei due minuti ti metto dentro oh quello lì non ci muove zampi no quello lì guarda quello lì questo questo è il blocco del cemento quello si muove se vieni su tutti si muove ma mi dà fastidio questo ma no se ti capi di mettere sul piede se cadi se non c'è il buco dopo la giù lascialo lì osti lascialo lì allora se arrivi su qua con la moto che ti capita di mettere sul piede per terra se noi togliamo questo e lo buttiamo sotto poi sopra questo si e dopo mettiamo andiamo a casa a mangiare è quello che voglio dire io dai rimettilo con me dai rimettilo con me va bene basta è a posto non cade te ne metto un altro vito lascelo qui che sembra di anche questo andava bene da invito dai camminiamo sugli altri uno per quanto uno per quanto? si facciamo qua uno per due una volta l'ha messa lì perchè è rimasta lì qua qua non andava bene perchè è troppo stretto si è la giusta figaro non l'acqua la mangia la si è passata la mattina qua ha passato la mattina per me ce la passate eh ma cazzo non hai figaro per andare su di lì cazzo devi venire qua e ad agli e cioè arrivi fino alla perchè arrivi a buttarla la però devi fare anche lui non è che mi piaccia tanto se lo fai diritto è un conto cazzo così se no a sere dobbiamo tirar via questo state un po' in mezzo tutto forno in mezzo un po' forza è stata la moto dai 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 non c'era tutto l'ho provato di farlo perchè c'è bene il piso qua questo è quello che ti fa affattare eh sì ma il problema è che noi andiamo più così e abbiamo paura mi piace lì dai dai lì vito un po' di più la maglia paura di prendere dentro di lì cazzo che se anche arrivi qua che se anche arrivi qua ah poi sei qua sorto perchè devi che non riesci ad agli arrivi qua ma figa va dove sei prendi dentro te la fai mica sotto bravo bravo bambina 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 bravo 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 Grazie a tutti. 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 Mi sono ribaltato prima del ponte, sono caduto giù nei sassi. No, di qua non si può. Di qui non si può, cazzo, è troppo alto. Sono già cappottato una volta così. Sono già caduto prima del ponte, non c'è problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.